5, ci hanno 10, 10, vieni la garanzia, ciao, buonasera, aspetta, non è finito, certo, come ti chiami? Michela. Michela, da dove vieni? Dove vieni? Bergamo. Vieni da Bergamo, wow, viva Bergamo, si sente? E cosa fai di perdere la vita? Vieni. Bene, ancora meglio, così avrà del tempo da dedicare all'uomo che lei sceglierà, giustamente. Bene, come vorresti con il testo? Ma come? Voglio sapere come vorresti con il testo. Rosi, a sesto, ci siamo domani sera al Gless. Alto? Alto perché lei è alta. Alto di piedi, un attimo. Ragazzi, ci vuole un mondo che almeno si intenta nella seduzione. Allora, il 95% di sé. No, ma lui ha altre qualità, eh? Qualità, eh? Ha la profondità, ho capito. Ciao, Anna Maria. Bellissimo, grande, guarda. Un uomo alto e poi, dimmi un'altra cosa che deve avere. Padre L. Ah, non può dirlo. Allora andiamo direttamente lì, allora. Va bene, guarda, io ti consegno questo messaggio, mi auguro che questo messaggio veramente cambi la tua vita. Sei emozionata? Fa sentire il lavoro. Ragazzi, è emozionatissima, eh? Una roba in credito. Grazie, thank you for i match. Avete visto, ragazzi, è molto facile, eh? Tutto facile. Qui si fa carriera alla grande, ragazzi, eh? Andiamo avanti, vediamo un po'. Abbiamo un altro, è molto semplice, semplice, avete visto? Numero quattro.